Quando è flessibile lo puoi appoggiare in qualsiasi modo, quindi in base a dove ti trovi puoi fidarlo così o così oppure se magari stai lavorando sull'altro lato in questo modo, con l'altro non c'è differenza, ok? Ok, te lo appoggi. Per inserire il connettore la parte rotonda va verso il pavimento, ok? Vedi che ci sono gli sfili che hanno una certa lunghezza. Questa parte va rivolta verso la tua pancia. Tu adesso vedi il gancetto qui che è in fuori. Nel momento che lo andremo ad appoggiare dentro alla gamba, questo rientra. Fai attenzione, alzo lo sportellino, vedi questa linguetta, mi appoggio, vedi che adesso il gancetto è rientrato, quindi gli dai un colpo secco e qui adesso vedi che è in fuori, ok? Quindi attenzione, così è sganciato e lo tolgo e così è inserito.